Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori, sta morendo la nota VIP, potrebbero essere gli ultimi istanti di vita della nota artist che purtroppo ha un cancro in fase terminale prima di saperne di più, prima di scoprire di chi stiamo parlando, vi ricordo che, coloro questo video dovesse superare i 400 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo in questo video parliamo di una storia di valori, di una storia di amore, sia per la persona amata che per i propri figli, quella che raccontiamo oggi, la storia strappalacrime della nota influencer australiana Kelly Finlayson, molto popolare e molto conosciuta sui social network, è la moglie della noto atleta Jeremy Finlayson, i due molto innamorati e li vediamo dalla foto, entrambi di bellissimo aspetto e come è possibile vincere, anche da questa foto con una piccola bambina di tre anni di nome Sofia stanno affrontando la malattia, il cancro terminale, che molto probabilmente porterà via la ragazza nei prossimi giorni o nelle prossime settimane la popolare influencer ha voluto lasciare un toccante messaggio a tutti i suoi follower che sa tanto di messaggio da Dio la ragazza ha ribadito l'importanza dell'amore nelle nostre vite vorrei amare a lungo, mia figlia e mio marito, purtroppo non avrò questa possibilità voi che potete, non esitate, date tutto il vostro amore alle persone care mettete da parte il rancore, mettete da parte le falsità e spendete il vostro tempo a dire ti voglio bene, ti amo e ad abbracciare tutte le persone amate con queste parole Kelly Finlayson ha spezzato il cuore di tutti quanti noi e io stesso durante la narrazione devo dire che fatico moltissimo a trattenere la commozione scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa storia e cosa ne pensate del bellissimo monito d'amore di Kelly Finlayson, influencer australiana in fin di vita per un cancro terminale e amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, ciao